Ciao ragazzi, ed è che andiamo! Oggi siamo a Biandronno, bellissimo, vicino al lago di Varese c'è una bellissima pista ciclabile che costeggia il lago una roba spettacolare poi, giusto per essere comodo, ho portato il mio marsupio come potete vedere, l'attrezzatura dove ci sta dentro tutto vi faccio vedere qualcosina e seguite siamo nel comprensorio, lo chiamano comprensorio di Bardello è bella, la pista ciclabile è spettacolare io mi sono fermato un attimo dopo una lunga biciclettata e mi sono rilassato io mi porto dietro sempre la mia amaca come potete vedere eccoci qua sul lago di Varese la cosa bella è che la pista ciclabile è dotata anche di fontane e dell'acqua in modo che a metà tragitto uno possa fermarsi per bere per reintegrare i sali minerali persi il posto è carino la pista ciclabile si spinge sia sul lago che dentro il bosco è molto carino come posto davvero anche per una domenica come stiamo facendo noi di relax una buona sana pedalata ci sta da che andiamo è lunga la pedalata è molto lunga però è gratificante cioè è bella va bene sia per i ciclisti esperti per i nonni per gli amatoriali il posto è incantevole davvero allora raga vi faccio vedere questa bellissima bicicletta piegabile nera bellissima ve la lascio in descrizione se la volete è davvero una favola la pieghi la metti in macchina arrivi dove vuoi e la tiri fuori la monti in un attimo questa è la pista ciclabile che costeggia tutto il lago noi abbiamo parcheggiato qua ora faremo tutto il giro per arrivare al punto di inizia una cosa che vi posso dire è che è un posto tranquillo quindi se cercate la tranquillità è la cosa migliore siamo arrivati fino a qua che pedalata neanche tanto faticosa ma bella dai che andiamo allora ragazzi grazie a dai che andiamo è tutto ci vediamo al prossimo video spero che questi piccoli posti che vi faccio vedere vi piacciono ci vediamo al prossimo video grazie a tutti